veronica peparini e andreas muller sono stati ospiti a verissimo e hanno raccontato insieme ai loro figli il momento sofferto del parto i neogenitori veronica peparini e andreas muller sono stati ospiti a verissimo la scorsa domenica 19 maggio e hanno raccontato come stanno affrontando i primi mesi con le loro gemelline la famiglia insieme agli altri due figli della coreografa daniele e olivia si sono riuniti nello studio di silvia toffanin ricordando il momento molto sofferto del parto andreas muller a verissimo ricorda la sofferenza dopo il parto veronica peparini non reagiva veronica peparini e andreas muller hanno partecipato alla puntata di verissimo della scorsa domenica 19 maggio la coppia ha accolto da pochissimi mesi le loro gemelline penelope e ginevra e hanno deciso di portarle con loro nello studio di silvia toffanin la famiglia era al completo con loro c'erano anche gli altri figli della coreografa nati dal precedente matrimonio con fabrizio prolli durante la loro intervista hanno raccontato anche le difficoltà della gravidanza e del parto la coppia amatissima dai fan ha raccontato al pubblico di canale 5 la felicità che sta provando dalla nascita delle loro gemelle ho questo sorriso da un mese e mezzo sono molto contento ha commentato il ballerino pensavo fosse stato peggio con quattro figli va tutto bene non siamo incasinati non so come faccio ma mi viene naturale andreas è bravissimo vuole fare tutto lui è un mammo così veronica peparini ha descritto il suo compagno l'ex ballerino di amici ha svelato che nonostante non abbia esperienza si sta basando su ciò che gli viene più naturale quando l'ostetrica gli ha dato la prima bimba in braccio ha dovuto comunicare il nome ho assistito al parto non sono svenuto però lei non reagiva fissava il vuoto e mi sono spaventato ha continuato a spiegare andreas a silvia toffanin la coreografa ha spiegato che il suo è stato un cesareo molto complesso e che dopo la nascita della seconda bambina l'hanno dovuta sedare la peparini ha ammesso di aver vissuto una gravidanza molto difficile ma tutto ne è valso la pena quando ha potuto stringere le sue bambine tra le braccia nello studio di verissimo sono poi entrate le gemelle e i due figli più grandi della coreografa olivia e daniele olivia è una femminuccia mi aiuta ma il suo caratterino lei è brava è dolce è buona ha ammesso la neo mamma il suo figlio maggiore invece ha svelato di suonare spesso la chitarra per le nuove sorelline